La campagna elettorale è ormai alle spalle e le urne hanno sancito ancora una volta la vittoria al Consiglio regionale del Presidente uscente Michele Emiliano, battendo di ben 8 punti percentuali il principale sfidante e garantendosi altri 5 anni alla guida della nostra regione. Brutte notizie purtroppo per Bitonto arrivano dalla mancata elezione di candidati con cittadini. Ben 10 erano in corso per l'assissi di Via Gentile a Bari, tra cui il consigliere uscente Domenico Damascelli, candidato con Forza Italia. Nonostante il buon risultato raggiunto, la sua vittoria è stata scippata dal monopolitano Stefano Lacatena, con le sue 8.000 preferenze. Una sconfitta causata, forse, dall'eccessiva presenza di cittadini candidati o dalla dispersione di voti verso grandi signori delle preferenze venuti da fuori città, che priva Bitonto di una rappresentanza in consiglio e delle opportunità che questa avrebbe potuto portare. Non entra in consiglio, nonostante i primi risultati entusiasmanti, la lista del sindaco a Baticchio, i tagli in comune, non riuscendo a superare la soglia di sbaramento del 4%. Una prevedibilissima vittoria del sì, invece, è l'esito del referendum sul taglio dei parlamentari.